buongiorno bikers benvenuti nella nuova session oggi siamo al parco trial di siamo in mezzo al verde è un posto dove non siamo mai stati proprio la prima volta che veniamo e tipo immenso perché qui va bene ci siamo fermati qui però ci sono anche passaggi la dietro continua per tutto la fine un parco molto grande che è nato per le moto però quanto capito si può girare anche in bici e niente sono sempre oggi sono solo compito e kevin sta lavorando e quindi vedremo di metterci qualcosa oh man Ciao, ciao. Sì. no 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 che caro di qua no nooo quelle sono fragole no non so se sono buone ma magari sono matte secondo me qua il matto sei tu comunque il solito passaggio ignorante era il passaggio matto passaggio matto il fatto è che qui le zanzare ho uno due tre quattro no dove è quattro enorme questo è enorme un po' abbiamo girato un attimo il parco e siamo entrati nel paradiso del trial perché c'è davvero ogni tipo di passaggio e al momento pilo ha visto questo qua che è tipo enorme è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.